se uno non ti piace allora lo cancelli no, cancellare o censurare l'opinione altrui è profondamente sbagliato e antidemocratico è una battuta va guarda un negro no, il termine negro è denigratorio nei confronti di una minoranza etnica e non va utilizzato un indiano o un cinese fa decisamente meno schifo assolutamente no, determinare la qualità di una persona in base al suo paese di provenienza è scorretto ed è sintomo di ignoranza vado con i miei amici e picchiamo con gli altri, d'accordo sbagliato, utilizzare violenza verso il prossimo è ingiusto e non risolve nulla, è da preferire sempre il dialogo il regime fascista mi piace al professor Alessandro Barbero il regime fascista non piace realmente è una frase tolta dal suo contesto di origine e, per questo, assume un significato diverso anche sterminare gli ebrei era il meglio per l'umanità assolutamente no, la Shoah è stata una delle pagine più oscure della storia umana e la religione di un popolo non è in alcun modo motivo di discriminazione anzi, la varietà religiosa rappresenta motivo di ricchezza culturale e sociale chiudiamo su questo, non aggiungerò una bello bravo